buona sera da filippo brusa e benvenuti alla 26esima puntata di bianco rossi news che oggi si occupa della palla ovale sport che mi è caro almeno dal 2007 quando ho avuto la fortuna di seguire il mondiale mondiale francese il mondiale di rugby e dalla torre eiffel penzolava un pallone un pallone gigante come questo una palla ovale come come questa questa sera parliamo del rugby varese con chi è il rugby avarese dal 1976 della fondazione cioè stefano malerba buonasera stefano malerba di fianco a stefano malerba abbiamo il capitano del rugby varese mattia borello buonasera adesso chiedo al nostro regista un'inquadratura diciamo una totale un'inquadratura totale perché voglio passare la palla a malerba meglio meglio mattia ormai meglio mattia e allora allora insomma rugby varese rugby varese una delle realtà storiche di varese anche se la fondazione recente solo 1976 quindi alla fine sono 42 anni avete festeggiato il quarantesimo due anni fa però diciamo c'è uno zoccolo duro insomma che è imprescindibile insomma persone a cui effettivamente il rugby è entrato nel sangue grande marketing avete no cioè vuol dire 101 per cento il il claim 101 per cento rugby varese insomma ha fatto diciamo strage in passato avete vendete felpe vendete tantissimi gadget qui abbiamo la maglietta della prima squadra molto bella e poi siete avete due due capitano ha un apollo molto bella con uno tema bellissimo ricamato e presidente insomma la colonna ex presidente però insomma malerba ha un bellissimo maglioncino insomma e ci fa invidia insomma questa questo tema che chi l'ha disegnato malerba credo moradei moradei negli anni negli anni 80 prima c'era un terribile elefante che schiacciava dei pali da rugby e poi è poi è nato questo stemma che al posto della ghianda al posto della ghianda ha un pallone a un pallone da rugby del nostro tema dagli anni 80 sì lei ma erba si sente un po una quercia odio ormai non più è fisicamente direi che non lo sono assolutamente anzi no mi sento mi sento attaccato a questa società ci sono passato da giocatore ci sono stato come semplice supporter ci sono stato come presidente oggi ci sono come come consigliere ma staccarsi dal rugby è estremamente dura rugby non è uno sport come tanti altri è uno sport da cui uscire una volta che si è entrati è assolutamente difficile poi la vita ti porta a diventare da giocatore ad accompagnatore allenatore dirigente ma l'attaccamento che hai per una società come la nostra che gioca continuo a dirlo questo per noi è un grandissimo motivo d'orgoglio in 40 anni non abbiamo mai cambiato la nostra filosofia noi giochiamo solo con ragazzi di barese solo con ragazzi che lo fanno per puro divertimento per cui senza neanche quelle formule che io trovo davvero un poco poco corrette di rimborsi spese o finti stipendi sono tutti ragazzi che lo fanno volontariamente pagando una quota all'anno mattia compreso di 250 euro all'anno per poter giocare a ragazzi per cui questo da un grande senso di appartenenza da un senso forte davvero di appartenenza uscire da una società come raggio a varese è estremamente difficile certamente interessantissimo mattia borello capitano allora come come iniziato a giocare io giocavo a basket giocava basket abbastanza bene mio cugino bosoni giocare di da sempre credo che sia uno con il maggior forse quello col maggior numero di presenze in prima squadra amici e come dice stefano è come un twister come un tornado rugby e amici di cugino ti tirano dentro e poi non riesci più non riesci più a mollarlo e mi sono innamorato di questo sport di questo ambiente della famiglia del rugby dei compagni dei valori che ci sono dietro al al semplice sport ecco in che ruolo giocavo nel placanestro ma sono abbastanza basso esattamente e però c'è basket poi lo sport diciamo che caratterizza di più varese insomma anche per le tradizioni illustre che ha avuto questo sport avarese ma appunto dal questo passaggio che ce lo racconti più nel dettaglio insomma che cos'è che è scattato insomma ma si è la drogata un po direi è scattato che andavo al campo a vedere le partite non capivo questa gente che si rotolava nel fango prendeva un botte che all'inizio anche capire le regole era abbastanza complesso ma ma è dopo la partita erano tutti sorridenti tutti felici quell'estremo sacrificio che che tu pratichi tutta la settimana andando allenarti miei compagni mi prendono in giro perché mi allenavo a 22 gradi in palestra adesso mi alleno a meno due gradi tutto coperto e quella cosa lì tutta la settimana la domenica sfocia in quel terzo tempo che viene un po venduto come una bevuta generale in realtà è passare del tempo in più assieme a delle persone con cui condividi tutta la settimana condividi un sacrificio in campo condividi il sacrificarti fisicamente nel tentativo di avanzare conquistare metri e questo te lo riporti nella vita e come dice stefano crei dei legami che che durano tutta la vita esatto è una filosofia di vita giusto una filosofia di vita che ha preso anche stefano malerba uno dei fondatori del rugby varese no io no io mio padre forse si insieme a rugby varese varese è stato fondato da ferrari bonalumi che oggi è ancora presidente onorario del raggi varese è ancora nel consiglio e va ancora sul campo io ho iniziato giocando con un professore di educazione fisica che si chiamava giancarlo pigionati collega storica firma della prealpina salutiamo giancarlo pigionati ciao pigio insomma dedicati ancora al rugby insomma è un grande appassionato di basso sì indubbiamente ho iniziato a giocare nella silvio pellico con giancarlo pigionati a 15 anni sono passata al rugby varese e da lì non ne sono mai uscito anche se ho smesso di giocare presto per infortuni vari assortiti e sono ancora qua sono qua ancora oggi ecco matti e mattia faceva riferimento un po al fango insomma a diciamo questi tratti distintivi che sono ancora più particolari in inverno insomma a vedere queste mische insomma nel fango del campo storico diciamo di giugno arriverà il campo nuovo esattamente adesso poi parleremo al fango rimarrà parleremo anche del campo nuovo però allora io ho seguito per la gazzetta anche una squadra i diavoli rossi insomma è una squadra di ragazzi di colore che si allena anche con temperatura appunto come meno due gradi insomma continua ad allenarsi con entusiasmo e giocarebbe ecco vorrei che appunto stefano malerba ci parlasse un po di questa realtà di cui si sono occupati anche i media nazionali ma che che insomma ci parlasse dello spirito di questi ragazzi come è nata questa idea e come si sta consolidando a varese e partite in maniera in maniera abbastanza casuale perché due anni fa ma giugno luglio una cooperativa che si occupa di accoglienza ci ha chiesto il campo del vivirolo per poter fare giocare a calcio questi ragazzi abbiamo imprestato loro e dato il campo loro per un paio di volte dopo di che ho chiamato questo signore gli ho chiesto ma senti ma perché invece di giocare a calcio non proviamo a costruire qualcosa di un po più strutturato e facciamo una squadra di rugby con i servizi sociali dopo di che con l'assessore molinari abbiamo organizzato una riunione con le altre cooperative e siamo partiti siamo partiti creando questa squadra formata solo ed esclusivamente da richiedenti asilo è stata iscritta fuori classifica al campionato per la prima volta non questa stagione alla stagione precedente in c2 c2 regionale fuori classifica perché naturalmente sono sono tutti stranieri per cui non sarebbe possibile una squadra di rugby in serie c avere solo giocatori stranieri abbiamo iniziato sono passati circa 60 ragazzi su questo progetto quest'anno la squadra è formata anche da qualche ragazzo della nostra prima squadra che va a giocare con loro per cercare di aumentare l'aggregazione credo sia un ottimo progetto perché è un progetto che aiuta realmente l'integrazione ma con qualcosa di concreto e qualche cosa che a questi ragazzi piace perché imparare l'italiano stando su un campo da rugby confrontandoti con il compagno con l'allenatore è sicuramente meno pesante che farlo in un'aula seduta a un banco con un insegnante un po noiosa che ti dice come lì stanno imparando tanto stanno imparando a convivere in una società che ha delle regole ben definite nel suo piccolo che è il rugby varese condividendo dei momenti comuni importanti pensiamo solo al terzo tempo per loro è assolutamente pensabile no questi finiscono la partita e si siedono a mangiare con squadre composte da gente che ha un colore di pelle differente da loro bevono poco alcol sono quasi tutti musulmani mangiano poche salamelle sono quasi tutti musulmani però stanno insieme stanno insieme questo devo dire che che è una cosa davvero davvero bella siamo molto contenti di questo progetto un progetto estremamente complicato e anche da un punto di vista economico dispegnoso però è un qualche cosa di importante un'ultima chiosa io credo che queste siano le cose che uno sport che si definisce dilettantistico una società che si definisce dilettantistica che quindi deve fare un lavoro sociale sul territorio debba fare bene complimenti insomma è un grande progetto questo è un grande esempio appunto di integrazione attraverso uno sport come il rugby che riesce diciamo a unire a unire le persone non solo nel terzo tempo ma effettivamente anche con lo spirito di squadra fratto so che questi ragazzi sono stati anche invitati a Roma per i sei nazioni cos'era a febbraio forse sono andati a Roma sono andati a Roma a giocare una partita dimostrativa contro un'altra squadra formata solo da richiedenti asilo di Casale Monferrato che sono le tre rose nere e hanno giocato il foro italico una partita dimostrativa contro le tre rose nere la federazione ha molto a cuore questi progetti sociali e ci sta dando oggettivamente una grande mano da un punto di vista i tesseramenti non sono facili potete immaginarlo perché tesserare giocatori o ragazzi che sui documenti hanno sicuramente qualche però ci sta dando veramente una grande mano e dimostra una grande sensibilità a progetti sociali di questa portata e di questo valore bene seguiremo anche sul campo i diavoli rossi di Varese ma vogliamo parlare della prima squadra con Mattia Borello il capitano della prima squadra insomma serie B serie B ricordiamo che rugby Varese gioca in serie B ecco come come questo inizio di campionato vi soddisfa ci soddisfa parto dal presupposto che non bisognerebbe valutare il seminato dei risultati siamo nuovi nella categoria il gruppo è molto giovane siamo 4 5 ragazzi oltre i 30 anni tutti gli altri sono dai 30 anni in giù ricordiamo appunto in classifica avete vinto in classifica siamo terzi ultimi mi sembra su 12 squadre abbiamo vinto la prima partita e abbiamo fatto dei punti con delle squadre dove in teoria sulla carta doveva essere molti punti loro pochi punti noi e niente adesso è il momento di raccogliere un po i frutti di quello che abbiamo provato a seminare ci stiamo allenando bene quattro volte a settimana l'impegno della domenica è difficile a volte avere la presenza di tutti i giocatori impegni lavorativi impegni familiari e quant'altro e niente è il momento di prendere un pochino più di confidenza con la categoria capire che abbiamo tutte le capacità individuali per stare in questa categoria molto bene e di metterle di farle amalgamare assieme tra di noi e iniziare a fare punti e prendere un po più di fiducia nel gruppo fare punti divertirsi innescare quel domino di sensazioni positive che può portare un risultato positivo che da lì niente possiamo tranquillamente stare a metà classifica se non in alto a inizio anno in un'intervista qualcuno mi ha chiesto cosa mi aspettavo ed era l'idea di non rincorrere tutto l'anno quelli davanti a noi adesso è il momento di di affermare questa cosa qua bene grazie mattia capitano insomma che fra l'altro porta una cicatrice sua fonte no quello è con le ragazze la usavo dicevo che era rugby in realtà sono caduto da piccolo la più grande non c'entra niente raggiungere altre si quale sono diciamo i colpi che ha un po nei prese io sono un abecedario di se parto dall'alto qualche punto in faccia il pettorale strappato un'ernia cervicale un paio di costole rotte il crociato rotto operato ma ma deve versare 250 euro all'anno per giocare a rugby però è felice è felice bisogna essere un po matti per fare questo sport spieghiamo felice ma perché vai a casa guarda prima mi ha dato in mano questa palla fuori onda e diceva stefano non la tocco da venerdì perché domenica non ho potuto giocare avevo una certificazione per il mio lavoro e niente una toccava da venerdì sono cinque giorni cinque giorni ti manca la palla ti mancano i compagni ti manca lo spogliatoio il primo allenamento il dopo allenamento il durante il cenare in club house tutti assieme abbiamo una club house dove il martedì mercoledì giovedì e venerdì possiamo cenare tutti assieme il venerdì di solito obblighiamo anche i più giovani che hanno da studiare a passare un po di tempo con con noi per tutta questa cosa qui è ciò che contraddistingue il rugby rispetto agli altri sport dove spesso vai ti alleni timbri il cartellino e e ci rivediamo allenamento dopo esatto e magari si arriva anche in porsche in alcuni sport qui nessuno qua nessuno ma allora malerma anche lei avrà qualche cicatrice sopracciglio se lo sarà rotto tante volte sì un po di punti in testa un gomito di sfato a caviglia a costole ma fa parte del gioco fa parte del gioco non statisticamente perché poi sembra che uno sport estremamente duro devo dire che statisticamente fino ai juniors quindi fino all'under 18 è uno sport che ha una quantità di infortuni inferiori a quella del calcio o della pallacanestro stessa gli infortuni nei mini rugby non non esistono quasi c'è una differenza sostanziale rispetto agli altri sport è vero che uno sport di contatto è vero che uno sport duro ma sei preparato al contatto a differenza del calcio dove se ti arriva uno da dietro e ti fa il malo modo non te l'aspetti e rischi realmente di farti male qual contatto sei preparato sei pronto per cui gli infortuni sono davvero una cosa non così frequente specialmente a livello giovanile lo sono un po di più a livello signore ma lì conta molto conta molto la preparazione fisica diventa fondamentale riuscire a svolgere durante la settimana una preparazione fisica adeguata per avere un fisico in grado di sopportare uno sport così di contatto ecco tra l'altro uno sport anche denso di lealtà dove la lealtà è uno del vero mattia certo è un elemento imprescindibile i falli gravi per quanto possa sembrare uno sport violento il fallo grave è uno sgambetto è una maglietta tirata è un placcaggio al collo tutto ciò che esce da quello che è una sfida leale è punito paradossalmente due persone che corrono alla massima velocità un placcaggio forte una caduta ma quello fa parte del pacchetto rugby invece uno sgambetto ma il cartellino rosso è anche una squalifica di qualche di qualche settimana parliamo del campo ma l'era insomma c'è un progetto che diciamo si avvia alla conclusione per avere un campo degno della storia della ghe bivarese che ce ne parli che sta andando avanti un progetto che è quasi arrivato alla conclusione abbiamo trasmesso e stiamo trasmettendo in questi giorni le ultime carte osservazioni che il coni ci ha richiesto dopodiché con la fine dell'anno all'inizio dell'anno prossimo dovrebbero partire i bandi di assegnazione dei lavori e poi partire i lavori che comprendono un mezzo campo d'allenamento un campo da mini rugby dietro i pali attuali la creazione nella sede di giubbiano sempre a giubbiano l'aldo levi la creazione di una clubhouse che nel rugby negli altri sport presentato un progetto con una clubhouse no la clubhouse nel rugby è parte integrante dello sport e di questo gioco avere un luogo dove stare insieme è una cosa fondamentale quanto il campo da gioco la copertura della tribuna e la sistemazione delle aree esterne per cui speriamo davvero nel corso del 2019 di avere una struttura adeguata adeguata quello che siamo diventati nel tempo quest'anno siamo 300 tesserati è una società che muove numeri interessanti di ragazzi radicata realmente sul territorio non fa compere da fuori fa solo attività sociale facendo giocare i ragazzi di varese in un ambiente sano con regole definite a uno sport dove il bagaglio valoriale culturale è particolarmente importante per la crescita dei ragazzi belle queste parole bagaglio di valori e di cultura parliamo appunto del mini rugby insomma la vostra attività come si svolge a dire noi partiamo con bambini quest'anno ne abbiamo anche di quattro anni e partiamo da under 6 under 8 under 10 under 12 copriamo tutte le categorie nel mini rugby abbiamo circa 100 bambini tesserati quello che facciamo a livello a livello giovanile è un pochettino diverso da quello che viene fatto nelle nelle altre società o in altri sport noi stiamo curiamo in maniera particolare fino ai 10 12 anni la motricità del bambino fregandocene se ancora non hanno la competenza di come si passa una pallovale ma quando questo è importantissimo penso che sia la cosa no ma è un percorso capisce il pensare di andare a vincere il torneo a 10 o 12 anni non è una cosa che ci interessa non è la costruzione di un atleta che ha dei tempi e dei passaggi che devono essere assolutamente seguiti fino a 10 12 anni si parla quindi di psicomotricità si parla poi di una crescita motoria importante fine 14 16 anni una crescita fisica che dai 16 anni e di skill che dai 16 anni deve incominciare a esserci perché poi ragmi comunque uno sport che richiede comunque una preparazione fisica importante ma senza sapere come si corre noi non avremo mai un giocatore buono e quello è il lavoro che dobbiamo fare fino ai 12 13 14 anni bene siamo in chiusura fondamentale anche queste parole sul mini rugby vorrei adesso insomma ci ripromettiamo punto di tornare con bianco rossi news a parlare di rugby con maggiore continuità insomma anche per far capire com'è il rugby perché purtroppo in italia anche uno sport che magari solo gli appassionati solo gli specialisti diciamo coltivano ma infatti vorrei chiudere questa trasmissione chiedendo ai nostri ospiti cioè il capitano mattia borello ea stefano malerba di divertirsi un po con i nostri tre spettatori e di insegnare loro qualcosa sul rugby sulla palla ovale prego non placare di darci una totale proprio per perché mattia possa insomma insegnarvi qualcosa sul innanzitutto come si calcia ecco come si calcia come si calcia è l'ultima cosa che facciamo fare infatti come si calcia è l'ultima cosa quando calci la palla la dai sempre agli avversari per cui l'obiettivo nel rugby è tenere il possesso della palla e avanzare la cosa strana è che per avanzare devi passare la palla solo indietro rispetto a dove è la palla per cui io devo guardare avanti senza cercando di non farmi placare passare la palla indietro e per questo si dice che è fondamentale il sostegno nel rugby il sostegno è fondamentale è uno sport dove non puoi fare da solo con 50 punti come faceva coby bryant non puoi fare sette gol è uno sport dove se io entro da solo contro 5 per 5 placatori sicuramente faccio una brutta fine se ho un compagno di fianco che mi sostiene e altri 13 si gioca in 15 altri 13 e assieme riusciamo a trovare il modo di avanzare abbiamo compiuto la missione del rugby no conquistare spazio conquistare territorio e arrivare alla loro area di meta insieme trovare il modo di avanzare già questo insomma inquadra la particolarità la meravigliosità di questo sport se così possiamo dire lascerei l'ultima parola grazie mattia borello capitano del rec vivarese lascerei l'ultima parola al birmano a stefano malerba che cosa che cosa diciamo ai nostri telespettatori insomma per invitarli all'aldo levi beh che che è davvero un ambiente particolare rispetto a tanti altri sport è un ambiente dove si sta bene si passa un pomeriggio bevendo una birra con un tifo sano mai contro ma sempre propositivo quello che dico è che comunque vada ma questo rivolto specialmente ai genitori è davvero uno sport in cui non ci si portate a casa i bambini un po' sporchi forse sì di fango dovete lavare i vestiti in maniera un po' diversa rispetto a un allenamento in palestra però è un mondo in cui davvero a livello educativo si riesce a trasmettere tanto e si riesce a creare che è quello che a noi interessa degli uomini prima che degli atleti e dei giocatori bene grazie a stefano malerba grazie a mattia borello l'appuntamento è con la nuova puntata di bianco rossi news settimana prossima ma pregherei stefano malerba di passarmi la palla grazie l'appuntamento settimana prossima grazie grazie a tutti